Come è la fiera di vita Libio? Per il mondo del biologico c'è sempre più interesse per il biologico, per il dinamico, per i vini certificati vegani e si apre per noi, siamo contenti perché da lì vuol dire che la gente chiede vini puliti per una terra più pulita e siamo molto contenti. Per noi non è solo un business ma è anche aiutare la natura e la terra a essere pulita. Nel frattempo proseguono numerosissime le attività in azienda che apre le sue porte, anche visitatori, al pubblico. Certo, l'azienda è apertissima adesso al pubblico, facciamo tante degustazioni, facciamo vedere il nostro orto biodinamico, la biodinamica in vigna, i nostri cavalli da curo fantastici, tre cavalli francesi, con cui lavoriamo in vigna, l'orto e il bosco e facciamo anche corsi di lavoro, insegniamo come lavorare in agricoltura con i cavalli.